Parto da un dato, che cos'è la moneta? Perché noi siamo abituati a ritenere e a comportarci come se la moneta fosse un qualsiasi bene cioè come se fosse un bene che si regola secondo i meccanismi della domanda e dell'offerta però già da una prima analisi noi sappiamo benissimo che la moneta non si comporta come si comporta un qualsiasi bene dentro la legge della domanda e dell'offerta dicevo intanto che la moneta non si comporta esattamente come qualsiasi bene perché ad esempio all'aumentare del prezzo della moneta l'offerta di moneta diminuisce in realtà per un meccanismo semplice che chi emette moneta, la moneta non sta nel mercato c'è un soggetto attraverso un meccanismo burocratico c'è un'emissione di moneta e in realtà chi è disposto ad acquistare moneta, cioè credito a prezzi alti di solito è insolvente e quindi tendenzialmente chi vende moneta è prudente nel dare moneta a chi è disposto a pagarla a prezzi alti questo già dimostra che la moneta è, quindi che cos'è la moneta in realtà? la moneta dovrebbe essere la misurazione della quantità di ricchezza che si produce e per quota parte la moneta che noi deteniamo dovrebbe essere la quantità di ricchezza che noi contribuiamo a produrre dentro un'economia eppure sembrerebbe che il sistema sia andato in un'altra direzione io faccio risalire questa degenerazione del sistema al trionfo intorno agli anni 80 di una ideologia, ideologia liberal monetarista che approfittando delle incongruenze, delle incoerenze, delle degenerazioni del sistema dell'economia sociale di mercato in parte diciamo l'eccesso di debito che è scaturito e il fallimento di alcune esperienze incentrate su questo modello va affermando il principio che bisogna applicare come fosse una legge scientifica la loro idea di economia che parte da tre presupposti uno, la separazione del potere politico dal potere monetario e quindi sostituire, separare in Italia avviene con la separazione del tesoro con la banca d'Italia ma a radici più profonde cioè separare chi può fare le politiche di carattere monetario ossia determinare la quantità di moneta in circolazione da chi fa le politiche fiscali e economiche in genere sottraendo la leva monetaria ai governi legittimamente eletti per consegnarla alla banca centrale che poi diventerà in Italia non più una banca pubblica ma la banca delle banche commerciali che sono azioniste della banca con l'aggravante che poi come è stato detto che credo il governo Letta, se non ricordo male ha prodotto la rivalutazione delle quote e quindi noi abbiamo messo nelle mani delle banche improvvisamente abbiamo moltiplicato il loro capitale perché abbiamo rivalutato le quote monetarie della loro partecipazione alla banca centrale in maniera esponenziale con la certezza che a questo punto qualsiasi azione di riconversione delle nostre economie magari lo dirò dopo verso una riapprovazione della politica monetaria creerebbe un danno alle banche esattamente creerebbe o un danno enorme alle banche o comporterebbe un'onorosità tale cioè riacquistare le quote al valore a cui sono state rivalutate che praticamente la rende impossibile sostanzialmente è come se ci fossimo incastrati da soli e dicevo l'ideologia liberal monetarista parte da tre presupposti la separazione delle politiche monetarie dalle politiche economiche e fiscali in genere quindi la separazione tra la banca centrale e il potere politico cioè i governi egittimamente eletti le privatizzazioni e la deregolamentazione del sistema rapidamente guardo le tre questioni se noi sottraiamo ai governi egittimamente eletti la leva monetaria e diciamo che se ne deve occupare la banca centrale con l'unico obiettivo di tenere bassa l'inflazione noi sottraiamo una leva importante di politica economica a chi governa non perché come qualcuno dice secondo me sbagliando che noi potremmo emettere quantità di moneta all'infinito perché non è vero perché la quantità di moneta è commisurata alla ricchezza che un paese produce al massimo io posso decidere di immettere nel sistema una maggiore quantità di liquidità perché penso che quella liquidità consenta di accrescere la ricchezza cioè se io utilizzo liquidità per trasformare un terreno incolto in un terreno che produce cultura e quindi produce ricchezza ovviamente faccio un'operazione che non necessariamente sarà un'operazione inflazionistica perché se effettivamente ottengo l'effetto di accrescere la ricchezza non ci sarà il fenomeno dell'inflazione sostanzialmente però il dato di fatto è che noi sottraiamo ai governi egittimamente eletti la possibilità di determinare la quantità di moneta e quindi utilizzare quella leva la leva della svalutazione monetaria la leva dell'immissione di liquidità e la devolviamo questo potere a un soggetto terzo che con l'avvento dell'Unione Europea diventa la banca centrale e poi tutti quanti che osannano Mario Draghi che notoriamente è stato eletto a suffragio universale da tutti i cittadini dell'Europa e che decide la quantità di moneta che circola nel nostro sistema arbitrariamente tutti lo esaltano per questo quantitative easing che è un meccanismo molto semplice immettere liquidità nel sistema facendo acquistare i debiti pubblici o acquistando direttamente i debiti pubblici i debiti sovrani dei paesi quindi che vuol dire questo che ogni qual volta noi abbiamo necessità di immettere liquidità aumentiamo il debito pubblico aumentiamo il deficit perché c'è l'aumento del tasso di interesse e questa spirale produrrà sempre l'effetto che il debito tenderà ad aumentare tanto che poi Draghi dice è il quantità di easing serviva per poter creare una condizione per ridurre il debito pubblico attraverso le riforme strutturali questo vuol dire in termini molto pratici che domani mattina quando Mario Draghi deciderà di interrompere questa procedura noi avremo un'impennata dei tassi di interesse e un aumento esponenziale del debito pubblico che nel frattempo non è diminuito quindi l'Italia è un paese che a stretto giro rischia un cortocircuito o comunque è ricattabile da oggi e per sempre da Mario Draghi e da chi in qualche maniera colpevole non è Draghi no 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 il colpevole è il sistema il sistema certo certo il colpevole è il sistema diciamo Mario Draghi è il riferimento oggi quello che può oggi utilizzare questa leva chiaramente è il sistema voluto no ora non è che è una cosa da poco perché se noi non siamo più titolari della moneta il nostro debito aumenta ed è sottoposto alla speculazione se si interrompe il quantità di easing noi subiremo un'aggressione speculativa ovviamente non appena si saprà che si sta per interrompere subiremo un'aggressione speculativa questo vuol dire che noi subiremo successivamente delle manovre di aggiustamento cioè un aumento della pressione fiscale che non servirà come è sempre servita per produrre welfare ma servirà per pagare i costi della speculazione cioè indirizzeremo le risorse dei cittadini italiani che storicamente le risorse che vengono sottratte attraverso la tastazione dovrebbero servire per produrre il sistema del welfare servono ormai oggi dentro le democrazie moderne se le possiamo chiamare democrazie servono per finanziare la speculazione dei soggetti che oggi detengono una grandissima quantità di capitale e ci arrivo dopo e non possiamo fare investimenti pubblici non possiamo svalutazione come ho detto e c'è l'aggravante che chi controlla la quantità e quindi anche la velocità di circolazione della moneta controlla il sistema economico nella sua totalità e quindi se c'è uno spostamento diciamo così dal settore pubblico al settore privato di chi produce moneta ovviamente c'è uno spostamento del controllo della ricchezza del mondo che è inevitabile la seconda considerazione la seconda tema il secondo dogma del monetarismo era la liberalizzazione del mercato ora io non sono presidente di una associazione di imprenditori quindi immaginate non è che ho ostilità nei confronti delle imprese anzi al contrario ho un grande apprezzamento nei confronti delle imprese non si può prioristicamente sostenere che tutto ciò che è pubblico è male tutto ciò che è privato è bene dipende dalle condizioni ma sono gli elementi di base di politica economica che ci dicono questo a me hanno insegnato moltissimi anni fa l'università che è preferibile un'economia di mercato ma che laddove esiste un monopolio o un oligopolio è preferibile un monopolio pubblico piuttosto che un oligopolio privato per il semplice fratto che l'oligopolio fa cartello e quindi aumenta i prezzi e quindi c'è un extra profitto che non viene distribuito ma viene incamerato dai pochi che detengono il sistema delle telecomunicazioni perché ci hanno raccontato la liberalizzazione delle telecomunicazioni improvvisamente con la telefonia mobile principalmente è arrivata la liberalizzazione delle telecomunicazioni ma voi vi rendete conto di quanto è aumentato il costo oggi sono i contratti quelli all inclusive li chiamano ma a un certo punto noi spendevamo 200 lire al minuto per fare una telefonata che dal telefono di casa costava due centesimi non lo so è una cosa irrisoria siccome il mercato delle telecomunicazioni proprio per le norme i san cost cioè i costi di accesso che può fare le infrastrutture è un mercato oligopolistico chi c'è in Italia che fa telefonia Telecom Vodafone si chiama oggi Omni Telecom non so più come si chiama Trewind che sono diventate una cosa sola come si può parlare di concorrenza in un mercato dove ci sono tre soggetti forse quattro perché quei soggetti ovviamente fanno cartello e quindi non si fanno concorrenza e quindi determinano dei prezzi che sono oggettivamente più alti quindi anche l'idea delle liberalizzazioni dipende da quello che si privatizza non necessariamente tutto deve essere privatizzato non necessariamente tutto deve essere pubblico ma dipende dal contesto economico però noi siamo andati in quella direzione che poi ha prodotto il fatto che noi abbiamo svenduto il cartello di prima alle multinazionali straniere il nostro patrimonio industriale economico e poi dice le deregolamentazioni perché questo eccesso di regole che ci sono impediscono al mercato di operare l'idea salvifica del mercato che il mercato da solo produce un equilibrio ora poi alla fine bisogna fare i conti con quello che è stato perché uno si è intellettualmente libero onesto intellettualmente fai i conti con la realtà la realtà ci dice che questa ideologia applicata al mondo globale ha prodotto non l'affermazione del sistema capitalistico e del libero mercato ma la distruzione del sistema capitalistico e del libero mercato perché noi oggi non ci troviamo dentro un'economia di mercato globale ma ci troviamo dentro un grande oligopolio globale dove pochissime persone detengono oltre la metà della ricchezza del pianeta e dove pochissimi soggetti detengono tutte le strutture industriali produttive pensate che nell'agroalimentare 10 soggetti detengono il 98% del mercato di tutta la filiera vuol dire quando noi entriamo in su del mercato e troviamo lo scaffale pieno di marche e siamo convinti di poter scegliere tra una migliaia di prodotti in realtà siamo acquistando i prodotti di 10 soggetti poi uno dice vabbè è solo una limitazione della nostra libertà di scelta eh no perché questo produce l'effetto che il produttore locale di pomodori del tavoliere delle Puglie purtroppo per vendere i propri pomodori li deve vendere al prezzo che quel cartello decide debba essere applicato per acquistarli perché altrimenti li comprano in un'altra parte del mondo a un costo molto più basso e questo poi produce l'effetto che quel produttore di pomodori per stare dentro i parametri economici fa lavorare in nero la signora che poi muore e poi i telegiornali tutti i telegiornali a reddine unificate ci raccontano che è morta la signora sul campo dei pomodori perché questo è tutto un meccanismo che produce questo effetto devastante del sistema economico globale e quindi noi siamo dentro al fallimento del capitalismo dentro questo fallimento il sistema Italia è un sistema che per alcune caratteristiche il sistema bancario italiano è stato detto un sistema il sistema capitalistico italiano è un sistema dove c'è una forte presenza delle banche sia in termini di capitale di rischio sia in termini di credito c'è una tendenza a dare perché poi i proprietari delle banche sono gli stessi a cui vanno dati i soldi sostanzialmente un meccanismo perverso c'è una tendenza a dare il denaro solamente ai grandi soggetti che poi non pagano e quindi non restituiscono e ci troviamo dentro a un cortocircuito di sistema che è molto grave e molto pericoloso oggettivamente per noi però mi sembra che la complessità del quadro ci dice che c'è bisogno di agire principalmente sul paradigma economico dentro il quale noi viviamo cioè su questa idea noi dobbiamo avere la forza di affermare che il liberal monetarismo e quindi il capitalismo ha prodotto il fallimento dell'economia di mercato e che bisogna riaffermare un nuovo paradigma se devo utilizzare una dicotomia io direi passare dal capitalismo al distributismo che è caro a Chesterton alcuni pensatori anche economisti del mondo anglosasso cioè cercare di offrire un meccanismo per il quale si torni a una distribuzione della ricchezza per il quale le grandi concentrazioni devono essere non in mano di pochi soggetti ma in mano della moltitudine degli azionisti e poi bisogna cercare di aiutare invece il piccolo e medio imprenditore che poi è quello che dà lavoro è quello che investe nell'economia reale al contrario di questi possessori di grandi capitali che speculano nelle borse valori la speculazione finanziaria è dieci volte il PIL del mondo allora ho accolto con gioia la notizia che l'Unione Europea che ci dava le pagelle sui conti ci ha detto eh no attenzione dovete fare una cosa dovete spostare la tassazione dalla rendita cioè dal reddito che produce ricchezza alla rendita dico ah interessante se ne accorta pure l'Unione Europea sì dovete reintrodurre l'IMU sulla prima casa ma dico no scusate c'è qualcuno che acquista e vende titoli in un attimo guadagna milioni e per loro la rendita è la sora Cecioni che con i risparmi di una vita del marito si è comprata la prima casa non so se ci rendiamo conto dentro quale paradossale presa in giro noi ci troviamo ad operare quindi il tema centrale è che bisognerebbe avere la forza di provare ad offrire una risposta di cambiamento cioè affermare intanto che il fallimento è evidente che il malato viene tenuto in vita artificialmente perché bisogna fare l'interesse dei quattro parenti che nel frattempo si stanno spartendo il bottino cioè i pochi c'è chi dice 8 c'è chi dice 80 che detengono oltre la metà della ricchezza mondiale cioè l'1% della popolazione ha la stessa ricchezza dei 3,5 miliardi di popolazioni più povera c'è una cosa pazzesca cioè che oggettivamente se uno la guardasse un minuto di oggettività direbbe ma siamo fuori da qualsiasi è chiaro che il sistema è fallito e immettere delle politiche che purtroppo non possono alle condizioni attuali essere politiche a livello nazionale ma a livello sovranazionale che indirizzino il sistema verso una riorganizzazione che produca l'effetto della redistribuzione della ricchezza quindi principalmente la valorizzazione di chi produce reddito nei confronti di chi fa rendita e la distribuzione delle azioni dei grandi gruppi industriali multinazionali nei confronti di chi ci lavora perché questo accrescerebbe non solo la proprietà ma immediatamente accrescerebbe anche le condizioni di questi lavoratori che molto spesso sono sfruttati si può fare? si potrebbe fare poi certo se uno lo dice in ambito accademico oggi o anche in ambito politico viene cacciato dalle aule come è stato detto delle nostre istituzioni delle nostre università però oggettivamente io penso siccome lo dicono illustri persone che il sistema è fallito o ci rimbocchiamo le mani o andiamo e andiamo in un'altra direzione o temo che veramente lasceremo la miseria ai nostri figli che già insomma si nutrono di miserie culturali valoriali che non so veramente io sono figlio di 9 anni e sono molto preoccupato devo dire di quello che lo aspetta ecco io penso che il nostro compito sia quello di provare a dire che c'è da cambiare se questo piccolo seme che noi possiamo immettere con un convegno con un approfondimento produrrà dei frutti questo ce lo dirà la storia noi intanto assolviamo il nostro compito grazie 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 a tutti.